Gianpaolo, dai, c'è qualcosa per YouTube? Per le amici argentini, sono a Buenos Aires Ecco qua, Fabio Verti e Gianpaolo Viazzotti Voi amici argentini, non ascoltate una festa del genere Fondamentalmente, non avete voglia di fare un cazzo Guardate, miren la qualità delle fieste venetiche Nisiché italiane, perché in Napoli non si vede Coca Cola per tirare, ahi abbiamo bebidi di tutti i colori Mira, mira la birra Mira la birra